Ma oggi in particolare nell'ambito dei diritti umani, sui quali bisogna alzare lo sguardo effettivamente, mi concentrerò in base al film che vedremo sulla difficoltà di conciliare da una parte libertà di espressione e dall'altra di rispettare gli altri, rispettare gli altri almeno a livello di non pronunciare discorsi di odio, perché il discorso d'odio può essere coperto dalla libertà di espressione e in molti Stati, per esempio gli Stati Uniti, è coperto dalla libertà di espressione, ma in realtà in certe situazioni assume forme di persecuzione che possono poi avere conseguenze terribili come è stato nel periodo nazista e come è stato in altri paesi recentemente dove poi questi discorsi d'odio hanno portato a veri genocidi con morti di centinaia di migliaia di persone.